Metris è una rete di collaborazione fra città e regioni metropolitane, coinvolge partner di diversi livelli, tutti legati alle aree metropolitane ed è un'occasione di scambio e di collaborazione per affrontare le sfide che oggi le città metropolitane si trovano ad affrontare. In Metris si possono incontrare esperti che operano sul territorio, quindi persone direttamente responsabili degli stessi temi da cui apprendere e a cui insegnare. La rete sta investendo molto sul futuro. La pianificazione è fondamentale per aiutare lo sviluppo e per aiutare uno sviluppo sostenibile ed equilibrato e inclusivo, quindi uno sviluppo di qualità. La possibilità di scambiare esperienze è veramente importantissima, oggi più che mai, perché è più difficile di prima.